Benvenuti a un altro video sulle elezioni politiche, sempre da parte del Movimento 5 Stelle Stabiese, vi parla Enzo Amato. Oggi in particolare vi parlo semplicemente dei presidenti di sezione, anzi solo dei presidenti di sezione. Per entrare in argomento, la nomina dei presidenti è fatta dalla Corte di Appello competente, nel caso di Castellammare parliamo della Corte di Appello di Napoli. I sostituti invece sono nominati dalla figura del sindaco e quindi sempre a Castellammare non parliamo ovviamente di sindaco, ma parliamo del commissario prefettizio. Come preannunciato da altri video, abbiamo chiesto la selezione per sorteggio anche dei sostituti presidenti, come previsto da legge. La richiesta la inseriamo, la linkiamo qui nell'info box sotto al video, oppure nel video articolo inserito nel nostro sito www.movimento5stille.it Insomma, i fatti. Dopo la nostra istanza sono stato contattato telefonicamente dal geometra Giovanni Sarnataro, responsabile dell'ufficio elettorale. Mi ha spiegato che normalmente è comunque la Corte d'Appello che nomina i sostituti fino a pochi giorni prima delle elezioni. La prassi però del comune è sempre stata quella di sorteggiare i posti vacanti in pubblico in caso di necessità. Quindi mi ha dato anche la data di sabato 23, più precisamente alle 15 all'aula consigliare di Palazzo Farnese, luogo e data in cui ci sarà l'estrazione di eventuali posti vacanti come presidente di sezione. Insomma, visto che la Corte d'Appello se ne occupa fino alla fine, quasi certamente non ci sarà necessità di un sorteggio, o almeno si effettuerà solo per poche sezioni. Noi ne prendiamo atto e siamo felici di questo modus operandi. E che altro dirvi? Insomma, ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo restate informati su questo e su altri canali. Alla prossima!